Ha fotografato gli occhi di personaggi di ogni genere, dall'attore hollywoodiano all'imprenditore di successo, ma soprattutto ha fotografato le iridi dei ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisi da Annapoli. Ed è a loro che sarà donato il lavoro artistico di Anna Laura di Luggo, imprenditrice napoletana e di recente volto della TV satellitare, che venerdì 15 aprile inaugurerà la mostra evento Never Give Up, curata da Guido Kabib, e organizzata nella sede del Centro Europeo di Studi sulla devianza e la criminalità minorile di Nisi da. Anna Laura di Luggo, dopo l'esperienza torinese dello scorso novembre al The Other Fairs, accompagna il pubblico in un'esperienza multisensoriale, incentrata sugli scatti che ritraggono ingrandite le iridi dei giovani detenuti. Immagini dal forte impatto visivo ed emotivo, realizzate con un particolare obiettivo fotografico, in una o due giorni trascorsa all'interno della struttura detentiva di Nisi da. Al termine della mostra, l'installazione diventerà poi parte integrante del carcere minorile. Ho fatto questa esperienza meravigliosa qui, nella struttura di Nisida, coadiuvata dal personale educativo della struttura, e sono riuscita, attraverso due giorni di interviste e di colloquio profondo con i ragazzi, a tirar fuori un lavoro veramente molto profondo. Ho riprodotto all'interno di una cella di isolamento questa installazione che è composta da occhi dei ragazzi e delle frasi, delle frasi che rappresentano tutto quanto il loro mondo interiore, quindi rappresentano sia i loro sogni, i loro desideri, le loro paure. E a tutta questa installazione si aggiunge un video nel quale i ragazzi sono stati chiamati ad interagire anche tra di loro. Ho fatto un esercizio di affidamento, testando quanto loro fossero realmente capaci di affidarsi agli altri.